Grazie Presidente e soprattutto grazie al Ministro. Lei ha ringraziato il Servizio Sanitario Nazionale, i medici, gli infermieri, gli operatori del settore, ha ringraziato come è giusto i pressi, i maestri. Bene, io voglio ringraziare lei perché lei ha dimostrato in questi mesi, prima delle appartenenze politiche, di essere un uomo equilibrato, di essere sensibile e attento sempre a quello che le veniva rivolto dalla maggioranza e dall'opposizione e credo che abbia dato una lezione di buona politica. Questo lo voglio dire, anche se in passato tante volte abbiamo avuto appartenenze politiche competitive tra di noi, ma perché è giusto in questo momento riconoscere con obiettività quando le persone si sono comportate bene nel loro lavoro politico. E io dico anche ai colleghi dell'opposizione che complessivamente dovremo riconoscere che il Governo, nell'affrontare il tema dell'epidemia del coronavirus, ha lavorato bene. Non dobbiamo avere paura di constatare come in fondo i risultati che oggi abbiamo ottenuto sono stati migliori di altri paesi e non credo che questo debba farci dispiacere, questo deve in qualche modo renderci orgogliosi perché è un risultato dell'Italia, del nostro tricolore, non è un risultato di Conte, di Speranza o di Zingaretti o di Renzi, no, è un risultato di tutti, è un risultato degli italiani come è stato sottolineato. Voglio dire alla collega che mi ha preceduto, che ha certamente più competenze specifiche in materia di quelle che ho io, che io però in questo dibattito negazionisti non li ho sentiti, questo anche per essere così obiettivi. Io credo che in Italia l'opposizione non possa essere identificata con il negazionismo. Peraltro l'opposizione governa la maggioranza delle regioni e io non vedo presidenti di regioni negazionisti, vedo presidenti delle regioni che magari a volte hanno visioni diverse ma che, come il Ministro ha ricordato, cercano di lavorare assieme al Governo per rispondere a unicità, per dare una risposta unica delle istituzioni pubbliche davanti ai cittadini. Allora, oggi che cosa ci ha detto il Ministro? Ci ha detto attenzione, i nostri risultati sono migliori di quelli degli altri Paesi, ma l'aumento che altri Paesi registrano in proporzione lo stiamo registrando anche noi. Per cui stiamo attenti che bisogna tornare a una fase di restrizioni. Ministro, io accetto l'impostazione, credo sia corretta, perché tutti noi vediamo che anche da parte della gente sta tornando una paura, che è la paura che abbiamo visto qualche mese fa, perché i contagi aumentano seppure, grazie a Dio, non sono i contagi che si registrano a Parigi o a Madrid, grazie all'azione che noi abbiamo fatto. Allora, qual è il punto oggi che abbiamo di fronte? È cercare di essere fermi e rigorosi, ma equilibrati, perché certamente alcune cose io non riesco a capirle e se le pongo oggi in questo dibattito parlamentare, non le pongo certo per critica, ma le pongo perché voglio cercare di dare un contributo come parlamentare. Io, ad esempio, questa mattina sono stato terminale di diverse telefonate dalla parte della mia regione, evidentemente, di dirigenti sportivi che manifestano alcuni problemi. Lo sport non è un settore che possiamo definire secondario, è un grande settore che coinvolge l'interesse degli italiani, che dà un segno di pseudonormalità anche con gli stadi vuoti e che è un grande fatto economico. Mi dicono, ma scusate, non è giusto introdurre il concetto della proporzionalità? Che senso ha, come è stato detto prima, mille persone a San Siro e mille persone nello stadio che ne ha diecimila? Che senso ha non adottare lo stesso criterio di proporzionalità nelle strutture chiuse quando poi abbiamo la gente stipata negli autobus o nei treni pendolari, perché nei treni delle linee principali c'è un distanziamento che viene osservato. Allora, Ministro, io questo problema lo pongo. Come c'è il problema del rapporto? Non c'entra lei, c'entrano le autorità sportive, ma tra la Serie A e la Serie B. Nella Serie A, cioè noi abbiamo, a Verona possono andare in mille allo stadio, però quando gioca... Sì, ho fatto l'esempio giusto. A Verona possono andare in mille allo stadio, quando gioca al Chievo non possono entrare. Ma non ha senso, sono due squadre della stessa città, c'è lo stesso stadio, Serie A e Serie B devono avere le stesse regole e la stessa cosa vale per gli impianti al chiuso. Io ho visto che il Presidente della mia Regione, Bonaccini, ha cercato di introdurre dei criteri che secondo me sono giusti, perché sono criteri di fermezza, giuste le mascherine, giusto il distanziamento, giusto i divieti di assembramento, ma nello stesso tempo ragionevolezza, perché non si può essere omissivi rispetto ai trasporti pubblici e magari duramente repressivi rispetto a eventi sportivi che hanno un grande impatto economico, ma che anche danno il segno di un Paese che, con queste restrizioni giuste che lei ha proposto, torna sulla strada della normalità. Ho dato questo mio contributo, naturalmente so che, e mi auguro che l'intelligenza e l'equilibrio del Governo possa in qualche modo dare risposte a questo. Grazie.